Il nostro panificio nasce nel 1890 per volere del mio bisnonno Francesco che decise di chiedere a suo padre, vista l'età giovane del momento, non aveva ancora 21 anni, maggiore età dell'epoca, di chiedere per lui la licenza di industria per poter produrre il pane. E' interessante che all'epoca appunto molta gente il pane lo faceva in casa e quindi lui cucinava conto terzi, nel senso che chiedeva un piccolo obolo per la cottura del pane, magari per le signore che non avevano un forno adatto per la cottura o proprio non ce l'avevano. E poi in realtà lo preparava anche ovviamente perché voleva acquistarlo. Il mio nonno li subentrò, levo l'attività e nel 1949 costruì il secondo forno, con esso cucinò pane e prodotti da forno in genere, pensate fino al 2012, quindi cucinò per parecchi anni il pane per la comunità in questo forno. Mio padre ha preso tutta la vita lavorando su questo forno qui, che noi nel 2012 decideremo di sostituire, perché è ormai alla fine corsa, con un altro forno a legna, quindi ci siamo in Caponite e abbiamo voluto mantenere lo stesso tipo di lavorazione, di cottura del pane, mantenendo le ricette tradizionali dei nostri avi. Per quanto riguarda appunto la lavorazione, abbiamo sicuramente diversi tipi di pane rispetto al passato e abbiamo scelto anche di curare una linea con farine biologiche. In questo proposito abbiamo un calendario settimanale in cui ogni giorno della settimana proponiamo un pane fatto con un cereale diverso. Il fiore all'occhiello della nostra produzione attualmente è il pane del patto, che è il risultato del progetto del patto della farina, che abbiamo fondato assieme al Molino Tuzzi di Dolenia. Siamo fieri di questo progetto, che ormai ha il sesto anno di vita. I grani che vengono impiegati in questa farina sono grani di alta qualità, è una miscela di grani antichi, che vengono coltivati con criteri biologici e conservativi del suolo. Ed è interessante che dal punto di vista ecologico, perché è una filiera estremamente corta, nell'arco di 40 km abbiamo produttori di grano, un molino e un panificio, che producono un pane. Un pane del territorio per la gente del territorio. Siamo la quarta generazione di panificatori. Siamo sempre rimasti in un'azienda familiare. Attualmente siamo io e le mie sorelle. Ora abbiamo alcuni collaboratori, perché comunque la produzione per quanto piccola è aumentata. Abbiamo cercato di investire soprattutto su ragazzi giovani, anche per trasmettere un po' questi valori anche alle generazioni a venire. Capriva del Friuli è inserita in una rete di piste ciclabili. Casualmente ci ritroviamo come punto di riferimento lungo questa via ciclabile e molti turisti, cicloturisti austriaci, piuttosto che anche del nord Europa, ci vengono a trovare. Tornano anche nell'arco di ogni estate, perché affezionati magari a una sosta qui per una pizzetta, un bicchiere di vino o un caffè. Se prima era solo panificio e pasticceria, adesso c'è anche l'angolo bar, che vuole essere uno spazio aggregativo per la comunità. Per il futuro, secondo noi, le farine buone, tra virgolette, saranno sempre più rare. Quindi si produrrà di meno, la gente imparerà a consumare di meno, ma più di qualità. Mi chiamo Matteo Jordan, orgoglioso di essere artigiano. Grazie a tutti.